Abbiamo chiesto la Dero Galaxi per poter utilizzare questa strana macchina che mi sono costruito che è una BMW M3 4 ruote motrici Dere di bagge su effetti per poter utilizzare il voi Sulla vittu Eri Gli市 Eri Glius Gianni Guadagnari Guardami Eri Gli dottico Grazie è una macchina che in alcuni paesi d'Europa può anche correre, qui in Italia no però vuole essere stato una sorta di esercizio tecnico che mi ha divertito e che stiamo portando avanti con l'aiuto della Protech, della Grifone e di alcuni miei meccanici della mia città che mi seguono con grande passione da qualche anno Samedo! Unacchina per Latte Poi, se fosse il terno, 40, medio di 2.6, 1.8, 125, 164 di, 124 di un peso, 40, 120 di tipo 1 di, 50, 22, Grazie a tutti!